E non chiamarmi piunocchiuccio, è come ti dovrei chiamare piuttosto. Aiutami! Frigatemi immediatamente, Luca Palli! Non sentate io, babbo! Babbo! La verità. E la giacchetta? Oh, quella l'ho venduta. Ma sai, mi faceva un caldo. Allora adesso posso andare a scuola. Lasciami, babbo, lasciami, lasciami! E voi come fate a sapere tutte queste cose su di me? Ehi, buca! Sbagliato una volta e non sbagliò più. La verità di... Ordiniamo ad omicidio. Omicidio? C'è già tanta gente che ce l'ha su con... Chi crea scompiglio nel mio teatro? Lo è. E ne vado. E dove vai? E' il posto più bello del mondo. Ah. Il paese dei Palocchi! Benvenuti al paese dei Palocchi! Chi non vanta le mani non arriva domani! E adesso... Adesso basta! A mio parere, il burattino è bello e morto. Chi non vanta le mani non arriva domani!